ciao a tutti io sono il faraone parliamo oggi sul museo egizio del cairo il 15 novembre 1902 quando il museo fu inaugurato conteneva circa 50.000 pezzi ma oggi ne ospita più di 150.000 pezzi fu august mariette un egittologo francese che era il primo a riprendere il progetto di un vero museo di antichità egizia aveva capito che era necessario dotare l'egitto di poteri di controllo sulle antichità mariette iniziò un vasto programma di scavi in tutto il paese ogni cosa veniva trasportato al cairo con forti opposizioni da parte di europei ed egiziani il primo vero museo egizio del cairo fu inaugurato da mariette nel 1863 ma la sua morte non era più in grado di ospitare nuovi oggetti fu presto iniziata una gara internazionale per il progetto del nuovo museo fra 73 oggetti fu scelto quello dell'architetto francese marciel di urgon si trattava del primo museo al mondo pensato come tale e non ridattato da un precedente uso le forme e le decorazioni si ispirano al classicismo europeo di fino ottocento ma la pianta riprende quella dei tempi egizi di epoca tarda all'interno come nei tempi egizi un ambulatorio di gallerie circonda ambienti disposti intorno alla grande sala centrale rivisitazione su scala gigantesca dell'antica cella o santuario il visitatore poteva muoversi liberamente da un spazio all'altro come fra le rovine di un tempio egizio il 15 novembre 1902 fu inaugurato ufficialmente il museo egizio del cairo oggi la piazza su cui si affaccia e la piazza di tahrir la piazza centrale del cairo moderno ciao a tutti io sono il faraone vorrei parlare oggi di una statua meravigliosa e misteriosa nel museo egizio del cairo la statua di kefren la statua indiurite una roccia molto dura molto difficile da lavorare e scolpire e la domanda che rimane senza risposta come tagliavano e scolpivano gli egizi questa pietra con questa perfezione la statua di kefren è il capolavoro del periodo rappresenta kefren seduto sul trono dei lioni con il falco orus che si libera dietro il suo capo e il grande dio falco e protettore dei faraoni vuole dire il faraone era l'incarnazione di orus in terra la statua fu scoperto nel 1860 dal francese mariette durante le scave aggisa nel tempio della valle vicino alla sfinge il faraone indossa il tibico capricapo nemes e con la barba finta caratteristica la statua è perfettamente simmetrica rispetto all'asse verticale le braccia aderiscono al corpo e si piegano poggiando sulle gambe sul fianco del trono la famosa scena dell'unione dell'alto e del basso egitto e per voi come vedete questa statua e come tagliavano gli egizi questa pietra dura fatemi sapere ciao a tutti io sono il faraone parliamo oggi dell'evento capitale che da ufficialmente inizio alla storia egizia l'unificazione delle due terre e testominiato da un documento unico la paletta di narmar sul lato anteriore si nota subito il registro principale e colli incrociati di due filini sembolo di fusione tra due potenze rivali formano uno scodellino per il belletto il registro superiore mostra re con la corona rossa del basso egitto seguito dal suo porta sandali e preceduto da un scriva e da portatore di insegne delle regioni conquistate a destra nemici dicabitati con la testa fra i piedi sopra i giroglifici del nome del re il pesce nar e il cesello mer narmar sul retro il faraone indossa la corona bianca dell'alto egitto da cui è partito per la sua guerra di conquista la rappresentazione dell'impresa è un capolavoro di sentisi un falco tiene con una corda la testa di un uomo che spunta da una terra su cui fioriscono papiri il pitogramma significa il falco cioè il re ha sottomesso l'uomo della terra dei papiri cioè il delta che stupisce nella paletta di narmar e che tutto è già molto classico il falco come sembolo del re l'appeliamento regale e prime giroglifici e come se con il suo primo faraone la civiltà egizia fosse nata già perfettamente evoluta ciao a tutti io sono il faraone parliamo oggi della statua del ca del faraone nel museo del cairo secondo la religione egizia il ca era la forza vitale della persona e non usciva mai dalla tomba ed era rappresentato con il segno giroglifico di due braccia rivolto verso l'alto gli occhi brillanti realizzati in cristallo di rocca e quarzo secondo la mitologia egizia il dio ariete con un formava gli uomini sul tornio del vasaio insieme con il ca la statua fu realizzato in legno dorato e doveva essere rivistito di un gonillino mentre ora appare completamente nudo il ca uno delle cinque elementi ciao a tutti io sono il faraone parlo oggi di una meraviglia nel museo egizio del cairo le statue di rahoteb e nofret la sua moglie le due statue furono scoperte nel 1871 dall'egittologo francese august mariette nella mastaba a nord della piramide di maidum quando gli upirai di mariette sono entrati nella tomba erano terrorizzati alla vista delle statue che grazie al loro splendido stato di conservazione sembravano ancora vivi e seduti all'interno della tomba rahoteb e nofret erano certi parenti del res nefron e il padre di cheope le due statue colpiscono ancora oggi i visitatori nel museo egizio del cairo per la perfetta conservazione dei colori dibinti da una mano esperta oltre 4500 anni gli occhi sono resi realistici con maniera incredibile dall'iride di cristallo e quarzo secondo una convinzione tipica dell'arte egizia di ogni epoca la pelle di lui è scura e il rosa è chiaro quella di lei forse perché l'uomo sta fuori casa per il lavoro e la donna rimane dentro la casa e questo spiega la differenza del colore le iscrizioni molte nette e perfette sono disposte in colonne eleganti e il principe rahoteb il cui nome significa il dio rah è soddisfatto e il nome della principessa nofret è dipinto a fianco alla testa che vuol dire nefret la conoscenza reale le statue rappresentano anche la vita quotidiana all'epoca soprattutto i dettagli delle statue come il vestito trasparente della principessa la barrucca e i trucchi anche la collana splendida che lei aveva e così possiamo capire come era l'arte in questa epoca soprattutto il vestito trasparente e elegante anche i dettagli per il principe come i baffi quello che aveva che abbiamo trovato anche in altre statue che forse era la moda all'epoca dell'antico regno di maschi con i baffi e il maschio anche aveva una collana che rappresenta lib o il cuore con la mano destra davanti o sopra al cuore e così queste cose spiega tante cose dell'arte questo un'opera di arte antico egizio ancora esiste nel museo egizio del cairo ciao a tutti io sono il faraone oggi abbiamo questo ritratto in legno di sicomoro del capo sacerdote caiber è l'esempio più miraviglioso di realismo scoltorio nell'antico regno e i primi ad esserne impressionanti furono gli operai che scoprirono la statua saccara ne notarono subito la somiglianza con il loro capo villaggio perciò la chiamarono che in arabo significa appunto capo del villaggio la statua scoperto nel 1860 durante il lavoro dell'archeologo mariette a saccara ciao a tutti io sono il faraone ci parliamo oggi della statuetta di chiope di avorio nel museo egizio del cairo e tutto ciò che rimane delle immagini del grande faraone è alto solo sette centimetri e mezzo ma è ritratto del viso e straordinariamente accurato occhi grandi allungati dalla linea del trucco naso e bocca larghi zigumi alti guance arrotondate incredibile che del famoso faraone ci resti un'immagine così piccola quando la sua piramide è la più grande d'egitto e voi che ne pensate ma perché non abbiamo trovato così statue grande di il faraone chiope ciao a tutti io sono il faraone siamo ancora nel museo egizio del cairo parliamo dello scriva seduto a terra con le gambe incrociate purtroppo non sappiamo il nome del titolare di questa statua lo scrivo a porta una barrucca nera la mano sinistra tiene un rutolo di papiro sulle gambe mentre la destra e attagiato come se ancora stringisse lo stilo di papiro nell'atto di scrivere indossa un con il lino corto bianco lo scriva a due grandi occhi meravigliosi contornati da un orlo di rame che rende la linea del trucco con lo sguardo di attenzione e concentrazione di ascoltare quello che doveva scrivere ciao a tutti noi siamo il museo egizio del cairo parliamo delle terriade di medicirino scoperte nel 1908 dall'archeologo george reisner nel tempio funerario del faraone erano dedicate ad ator via dell'amore e della fertilità raffigurata a destra del faraone a sinistra del re si erge la protettrice di un uomo o provincia dell'alto egitto si può conoscerla dal sembolo scolpito sopra la testa della statua i muscoli del faraone sono perfetti mostra un uomo muscoloso questa forma del faraone così come un messaggio per dire il faraone è sempre potente e forte ciao a tutti io sono il faraone vorrei parlare oggi di un tesoro sconosciuto e nascosto nel museo egizio del cairo e il tesoro di tanis dopo la scoperta della tomba di tutankhamon gli egittologi disperavano di trovare altre tombe reali intatte ma 27 febbraio 1939 durante uno scavo di routine nella città di tanis nel delta un egittologo francese pierre monté ha scoperto in un buco sicuramente praticato dai ladri di tombe quel buco nel terreno portò a monte e alla scoperta di alcune tombe quasi intatte di re e della ventunesima dinastia scopriò la seconda guerra mondiale e la scoperta passò quasi inosservata fu solo nel 1944 che i reperti di tanis furono disposti in una sala del museo egizio del cairo vicino al tesoro di tutankhamon i tesori di tanis una testimonianza eccessionale di un'epoca poco nota il tesoro più ricco e intatto è quello del faraone psusen primo la cui mumia indossava ditali e sandali di oro simili a quelli di tutankhamon il collare che il faraone portava al collo è un pezzo eccessionale composto da sette file di oltre 5.000 dischetti di oro è concluso nella parte anteriore da un motivo a cascata di catene che terminano con piccoli fiori creavano un gioco di luce e suono sul petto del faraone uno dei pezzi meravigliosi lo scarabbiò a lato anche la splendida brocca in oro massiccio forse fu usata per lavare le mani del re i titoli regali sono uncisi sul corpo della brocca re dell'alto del basso egitto signore della tua terra anche besones figlio di Ra la maschera funeraria di Amon im Hobbit figlio del faraone besones primo il sarcofago miraviglioso il legno dorato e divinto il volto alla forma di Oros il dio falco figlio di Osiride di cui tutti i faraoni si consideravano l'incarnazione e per voi avete mai visitato questi tesori nel museo egizio del Cairo? fatemi sapere ciao a tutti io sono il faraone parliamo oggi di un altro tesoro sconosciuto e nascosto dentro il museo egizio del Cairo l'unico tesoro che abbiamo trovato dentro piramidi egiziani è il tesoro della regina Heteb Heres la madre di Cheope e la moglie di Snefro una sedia di legno dorato un letto con poggia a testa e baldacchino una portantina non è un corredo qualunque ma quello di Heteb Heres madre di Cheope è il costruitore della grande piramide di Giza è il mobilio di una camera da letto regale del 2500 avanti Cristo un corredo simile forse all'redeva la camera funeraria della stessa grande piramide di Cheope si tratta di una scoperta eccessionale del 1925 bassata quasi silenzioso all'epoca dell'entusiasmo mondiale per Tutankhamon eppure questi immubili mostrano un'eleganza eccessionale simile di in una casa moderna la portantina è decorata da geroglifici in oro e il baldacchino completamente rivistito di foglie di oro e sostenuto da colonnine simili di palette di tenda e il velo trasparente di lino che lui ricopriva doveva essere costruito in questo prezioso cofano porta piancheria il cofanetto più piccolo contiene ancora 15 braccialetti di accento appartiene alla regina la sedia massiccia decorata di tre papiri ligati tra loro e il boggiatesta blaccato di oro ed argento e il sarcofago in alabastro una cassa di alabastro divisa in quattro per i vasi canopi che si vedono ancora i resti delle vescere della regina originalmente la regina è sepolta ad Ashur e fu trasferita con i tesori a Gisa vicino la piramide del figlio Cheope questo tesoro è l'unico tesoro che abbiamo trovato dentro i piramidi tu hai mai visitato questi tesori nel museo egizio del Cairo? e fatemi sapere ciao ciao a tutti io sono il faraone finalmente parliamo del tesoro di Tutankhamon è stato il giorno dei giorni il più magnifico che abbia mai vissuto così si espresse molti anni più tardi l'egiotologo Howard Carter il sigillo intatto dei sacerdoti della necropoli prometteva una tomba inviolata da millenni e così fu in realtà i ladri erano penetrati due volte nella tomba poco dopo la morte del re ma avevano abortato via pochi oggetti Carter fece passare la torcia elettrica nel buco ha trovato mobili, letti e carri in oro statue di legno e oro troni smaltati e ha detto la sua parola famosa mamma mia ho trovato montagna di oro Carter ha trovato anche la splendida sedia in ebano con avorio, oro e pietra semipreziose e il trono di oro che risale probabilmente all'inizio del regno del giovano sovrano con anche se namon la moglie del re entrambi hanno più o meno di dieci anni le gambe del trono terminano in zambe liunine quelle anteriori sono coronate da due teste di lion un sarcofago di alabastro per proteggere i quattro vasi canobi decorati con la testa del re sui quattro angoli le quattro die protettrici isede, nefti, nit e selket e per coprire questa cassa c'è un altro questa volta in legno e foglie d'oro per proteggere il primo le stesse idee sono scolpite da fuori ai quattro lati cardinali ci sono anche quattro enormi sarcofaghi sono fatti in legno blaccato di oro a forma di santuari uno dentro l'altro proteggevano il grande sarcofago di quarzite che questo esiste ancora nella sua tomba e dentro questo sarcofago di pietra ci sono tre sarcofaghi il primo sarcofago è il legno blaccato d'oro l'ultimo sarcofago è forse l'oggetto più prezioso mai conosciuto al mondo una vara lunga 1 metro e 87 centimetri di oro massiccio decorato con pietra preziosa pisante quasi 110 kg e il faraone viene raffigurato con osiride con le mani abbracciate sul petto regano i sembole del potere lo scetro e il flagello all'interno del sarcofago del faraone la mumia indossava una maschera di una bellezza incredibile quella maschera di un oro massiccio pesa quasi 11 kg di oro il faraone anche aveva una barba lunga finta che rappresenta la saggezza del faraone sulla fronte del faraone la testa di avvoltoio della dia Nehbet del sud e wajit il cobra egiziana la famosa dia del nord il capricabone mesforma un'eleganza incredibile del faraone e anche hanno trovato nel tesoro 123 giuelli sia braccialetti, anelli, collane, guanti di oro anche hanno trovato tantissimi scarabèi il sembolo della rinascita e porta la fortuna il pilastro di Jed del dio Osiride che vuol dire la stabilità e tantissimi anche amoleti per proteggere il giovane faraone nel suo viaggio dell'aldilà poggia a testa in avorio di Tutankamon in cui centro si erge Shu, dio dell'atmosfera i braccioli del trono sono due cobra allati e incronati che proteggono il cartilio il nome del re Tutankamon con sua moglie si stagliano sul fondo oro con pasta vetri e argento smalti e pietra simi preziosa due statue rappresentano il K del sovrano la sua forza vitale la categoria di oggetti più numerosa è senz'altro quella degli Ushapti quasi 413 statuine che dovevano sostituire il re nei lavori che il diffunto era obbligato a fare nell'aldilà Ushapti significa risponditore perché ciascuno statuina doveva rispondere all'appelo del diffunto a lavorare per lui gli Ushapti lupirai sono 365 uno per ogni giorno dell'anno più 36 caposquadra rappresentano le settimane dell'anno più 12 supervisori rappresentano i mesi dell'anno e così il totale di tutti Ushapti nel tesoro di Tutankamon sono 413 Ushapti il cofanetto portasandali testimonia della miraviglia del lavoro dei artisti egizi vediamo il faraone con l'esercito al seguito mentre mette in fuga i nemici l'ordine egizio contro il disordine straniero il maet contro il caos ci sono anche oggetti miravigliosi di alabastro nel tesoro il limone besse protettore delle funzioni sessuali ha i denti in avorio una barca cerimoniale di alabastro su un bacino un vaso di alabastro rappresenta l'inione delle due terre i due personaggi ai lati rappresentano il nilo dell'alto e del basso Egitto un grande fiore di loto un grande fiore di loto florisce la testa del faraone giovane Tutankamon un sembro della rinascita il mobinio è una parte importante del corredo funerario ci sono quattro letti straordinari usati in vita e tre letti cerimoniali i lati di ciascun letto rappresentano tre diversi animali la vacca mehet heret la rionessa mihet amot il cui nome significa devutratrice dei morti durante la cermonia funibre la mumia del re veniva adagiata su ciascun letto e veniva così in contatto con il potere del letto delle tre vie e tutte queste cose li hanno trovato dentro la mumia e così tutto questo oro ha trovato Howard Carter e la mumia portava anche 13 braccialetti di oro e 13 anelli questa meraviglia solo per questo giovane faraone il faraone Tutankamon che è morto quando aveva solo 18 anni immaginate per altri faraoni come Ramses II o Ramses III cosa possiamo trovare se fosse loro tombe non sono saccheggiate non sono saccheggiate ma ma non sono saccheggiate sono saccheggiate terrà non sono saccheggiate ma non sono saccheggiate